A furia di vedere a ripetizione le immagini della Nazza, si tratta solo di immagini digitalizzate elaborate al computer, anche l'astrofilo più onesto quando osserva come in questo caso Saturno, la sua mente non riceve questa immagine reale, ma questa. Riceve ed elabora la fotocopia che ha memorizzato nella sua mente e la realtà si cancella. Saturno è una luce, nulla di più, una luce che non ha nulla a che vedere con la luce delle stelle, come abbiamo visto nel video precedente, cosa sono le stelle, che trovate attraverso il pregevole indice alfabetico sotto la voce sono luminescenza. E come vedete, sempre con l'uso della Nikon P1000, si vede la luce fissa del pianeta Saturno e la luminescenza delle stelle.